Buonasera, buonasera a tutti, eccoci al consueto appuntamento da Paolo con le sue golosità. Stasera si parlerà di uova, eccole qua, uova fresche fresche, le uova voi come normalmente le mangiate, alla cocca, ad occhi di bue, la frittatina, oppure, che ne so, le uove strapazzate al mattino per fare la colazione. Ma mai nessuno ha provato le uova alla Nutella. Ecco qua, si prende un bicchiere, si prende un uovo, lo si apre così, voilà signori. Si depone il guscio nel bicchierino, ecco qui la uova fresca fresca di giornata, e si gira, si gira, si gira, si gira, mamma mia. Ma questo sembrerebbe quasi uno zabaione, che dite? A questo punto, vedete, è ben mantecato, come si dice a Napoli, si prende un po' di zucchero, ecco qua, e si continua a girare, è perché l'ovetto fresco va girato, perché sennò poi non è buono, deve essere buono buono. A questo punto, si prende un barattolo di Nutella, eh, già vi vedo, ma questo che sta facendo? Quale cosa sta architettando? Ecco qua, eh, mi chiamo il fazzolettino, e puliamo il cucchiaino, perché sennò poi si misca l'uovo della Nutella, e non va bene. Si prende un cucchiaino di Nutella, eccolo qua, è uno, ma si abbondiamo che c'è una volta, è due, e si gira, si gira, si gira, guardate, guardate, che incomincia a prendere il suo colore, uovo alla Nutella, eccolo qua, e ancora un altro pochettino, e sarà pronto per essere gustato. Anche questo potrà essere gustato con un biscottino, oppure con delle praline colorate, eccolo qua, questo è un ottimo antidoto per la stanchezza. Eh sì, zabaione alla Nutella, fresco, fresco di giornata, guardate, guardate, che prende il suo colore, il giallo con il marrone, che è il colore della Nutella. Ah, guardate, guardate, eccolo qua, eccolo qua, che arriva pronto, pronto, guardate, guardate che golosità, guardate, guardate, cremoso, pieno pieno di Nutella. Ecco qua, ecco qua, un'altra giratina, un'altra giratina, ed ecco a voi, che può essere poi servito con un gustoso e gradevole biscottino al burro. Tiè, mettiamo questo, e volendo può essere condito con due praline di cioccolata, quelle lì colorate. Se lo riesco ad aprire, eccolo qua, eh, ah, si buttano dentro, ecco una e due. Un'altra piccola giratina, e l'uovo alla Nutella è pronto, eh? Guardate, 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 Nutella e uova. Mmmmm, mamma mia, che bontà. Con questo io vi saluto e vi auguro una buona serata, e l'appuntamento è alla prossima. Ah, attenzione, qualunque richiesta è ben gradita. Buona serata.